Torna a gran richiesta per l'ottava edizione Giochi e Spiaggia, l'iniziativa nata da elementi di Giuseppe Passaniti e Marco Abate, residenti di Manfra che più volte si fanno portavoce delle gravi carenze che vive la zona. Anche quest'anno la coppia di amici ha deciso di organizzare tre giornate a base di risate e puro divertimento, per i residenti della località balneare e per tutti i cittadini che vorranno partecipare. Come ogni anno, quest'anno ci siamo ricordati sempre di voi, bambini. Ci lo fanno ricordare tutto l'anno, perché ogni volta che ci incontrano per strada, Marco, Peppe, mi raccomando, quest'estate. Già da settembre ci ricordano ogni giorno i giochi e noi siamo felici di ritornare a divertirci insieme a voi. I residenti volontari che aiutano i fondatori della pagina Facebook Satira Manfriana sono al lavoro da oltre una settimana e domani mattina, già dalle 7, delimiteranno gli spazi che serviranno per lo svolgimento dei giochi. Dobbiamo recintare il nostro spazio, altrimenti la gente giustamente mette gli ombrelloni, abbiamo bisogno di un po' di spazio, però devo dire che sono tutti contenti di questa manifestazione perché penso che non ci sia cosa più bella nel vedere bambini felici. Non soltanto i residenti sono felici di dare una mano, ma anche tanti esercenti della città. Sì, ci sono diversi esercenti che contribuiscono in tutti i modi per allietare l'organizzazione. Chi porta merenda, chi porta gelati, chi ci aiuta nell'organizzazione, comunque veramente siamo contenti di questo. L'anno scorso, per esempio, hanno portato pizzette, arancini, gelati, ghiaccioli, di tutto e di più e i bambini, guarda, sono rimasti non solo i bambini, ma anche gli adulti. L'annuncio di questi giochi, che dureranno per tre domeniche, è stato dato, come vostro solito, sulla pagina Facebook della Satira Manfriana. Sì, sì, perché comunque la nostra pagina, anche se è ancora piccola, è ancora giovane, ha molte visualizzazioni, quindi l'abbiamo voluta fare con un po' di satira, come al solito, perché visto sempre l'assenza... Ma se qualcuno vuole venire a fare selfie con Marco e Peppe, perché non può? Certo, certo, anche perché noi siamo Marco e Peppe, non me l'ho dimenticato, e quindi vi aspettiamo. Come ogni anno, dalle 10, bambini e genitori saranno coinvolti in giochi e tornei, che hanno un unico scopo, quello di divertirsi insieme. Non soltanto giochi per i bambini, ma ci saranno dei momenti anche dedicati ai più grandi. Sì, ci saranno dei giochi, alcuni di un paio di giochi, per gli adulti, quindi sarà altrettanto divertente e coinvolgente. Ci tengo a dire che comunque la partecipazione naturalmente è gratuita per i bambini, e quindi c'è solo da divertirsi. Ricordo le date, domenica 30 luglio, domenica 6 agosto e domenica 13 agosto, sempre alle ore 10. In che modo si può arrivare qui in questa spiaggia dove fate i giorni? C'è la metro, la fermata 3P, giri a destra, poi a sinistra, dritto, se arriva qua, no, a parte lo scherzo, siamo naturalmente nella ben nota spiaggia del Lido Orlando, quindi è facilissimo, è conoscuto. Semplicissimo, semplicissimo. Via del Ribes. Ma poi dove stanno Marche e Peppa? Lo sanno tutti. Lo sanno tutti questi.